Musica Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. È stato presentato oggi a Marghera, nella sede della protezione civile, il nuovo gruppo interregionale Comando per la tutela ambientale e la transizione ecologica dell'Arma dei Carabinieri di Venezia. Il gruppo sarà impegnato nel contrasto delle organizzazioni criminali, anche quelle di tipo mafioso, attive nel commettere i cosiddetti ecoreati sul territorio delle regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna, nel Trentino Alto Adige. La regione Veneto è a fianco del nuovo nucleo operativo ecologico per tutelare l'ambiente, con anche un laboratorio già attivo di analisi delle acque regionali per la rilevazione dei FAS. Sentiamo. Direi una bellissima notizia, strepitoso. Noi siamo assolutamente a fianco di questo nuovo comando dei Carabinieri, perché comunque la tutela dell'ambiente viene prima di tutto. Siamo onorati di avere questo coordinamento, di avere questo nucleo dei Carabinieri e soprattutto ci mettiamo a disposizione. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che la tutela ambientale ci sia a 360 gradi. Siamo in buone maniche su quelle dei Carabinieri. La Fondazione Bevilacqua La Masa ha lanciato un bando per l'anno 2022-2023 per l'assignazione dei 15 atelier BLM per la durata di un anno formativo. Il bando è rivolto ai giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in Veneto o comunque domiciliati in Laguna. Si tratta di un bando per artisti emergenti e si seleziona anche un coratore del programma che si occuperà del tutoraggio e che si occuperà anche della mostra finale. Elena, una donna di 69 anni, residente a Venezia, malata di tumore al polmone con metastasi male ritenuto incurabile, aveva deciso di andare all'estero in Svizzera per mettere fine alla sua vita senza attendere ulteriormente. Per farlo ha chiesto a Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni di accompagnarla. Elena è morta questa mattina, Marco Cappato domani andrà a costituirsi, rischia il carcere per aiuto al suicidio. Lo ricordiamo anche per la vicenda di DJ Fabo, anche lui aveva scelto il suicidio assistito in Svizzera. Adesso sentiamo le ultime parole di Elena. Io mi chiamo Elena, sono italiana e attualmente mi trovo in Svizzera. Normalmente sono una persona molto riservata, però ho deciso di raccontare la mia storia perché penso che possa tornare utile a molte persone che si trovano o si troveranno nella mia situazione. Io circa un anno fa, inizio luglio 2021, ho avuto la diagnosi di microcitoma polmonare. Quando ho avuto la diagnosi, il tumore era già di proporzioni piuttosto importanti. Già dall'inizio i medici avevano detto che avrei avuto poche possibilità di uscirne, ma anche se le possibilità erano poche, ho ritenuto che valesse la pena tentare. Il tentativo non è costato poco fisicamente e psicologicamente, ma l'ho fatto e l'ho portato a termine. Fatto questo però non ho risolto il problema e mi è stato detto che per me c'erano pochi mesi ancora di sopravvivenza e mi è stata descritta anche una situazione che via via sarebbe diventata sempre più pesante. Ho deciso di valutare la possibilità di terminare io la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Io ho parlato chiaramente con la mia famiglia, ho avuto la comprensione e il sostegno che potevo desiderare. Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente e io credo di averlo fatto dopo averci pensato parecchio, mettendo anche in atto convinzioni che avevo anche prima della malattia. Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e quindi ho dovuto venire qui da sola. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene. Li abbraccio tutti. Ciao. Cambiamo invece adesso, passiamo dalla cronaca agli eventi. Il 4 agosto dalle ore 21 sul litorale della spiaggia di Bibione si rivivranno le colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema. Il progetto è ideato dal maestro Diego Basso che con l'orchestra ritmico-sinfonica italiana si esibirà nella riproduzione delle colonne sonore, dal film Balla con i lupi all'estesi dell'oro, alle colonne sonore del film Il buono, il brutto e il cattivo e tante altre. E poi ancora domani sera invece si esibirà nella spiaggia del Faro di Jesolo. Irama all'evento va a concludere i concerti dal vivo organizzati all'interno della rassegna Jesolo Suonica Festival. Irama è salito alla ribalta per aver vinto un talent show e per aver partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo. Sono attesi nella spiaggia del Faro 7.000 suoi fans. E questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo la nostra email per tutte le vostre segnalazioni, venezia-chiocciola.cafi.tv24.it Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS